Ciao sono finito Ragazzi un messaggio importante Durante l'estate i video usciranno Ogni lunedì e sabato alle 11 e mezza di mattina Che ore sono? Oh alle 12 e mezza Che ora di pranzo? Presto sono in ritardo per la scuola Ah una doccia rinfrescante era più quello che mi serviva No 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 fa troppo freddo per far la doccia Io là non ci entro Sotto al sole sotto al sole Direzione direzione quasi quasi mi petto Devo superare la prova costume quindi mangerò un ghiacciolo Ele ma quello non è un ghiacciolo è un gelato Sì vabbè gelato ghiacciolo stessa cosa no? Accetto che lo riempio Ok sono mesi che mi preparo per questo momento Ce la posso fare E anche quest'anno ce l'ho fatta Adoro il mio maglione invernale Se stasera posso uscire ma certo posso uscire ogni sera Ah se posso uscire stasera Ehm sai cosa vuol dire studiare 700 magli di tedesco e latino la sera Prima di tre verifiche E ti faccio sapere se ci sono per stasera Ok grazie Ah che buona la brutta di stagione Mamma Cosa c'è di frutta da mangiare? Oh no ho dimenticato la crema solare Vabbè dai che vuol dire mi capita Ragazzi vi avverto sono leggermente pallida Cioè tipo potreste appendervi come stella di natale Attenzione Io però ho detto Che bello poter leggere qualsiasi libro durante l'estate Mamma mia che brutto sto libro Quante pagine mancano? Basta Ma perché ci danno il libro da studiare? No io quell'altro lì non lo leggo Dobbiamo farla a scheda lì Se leggo 15 pagine al giorno In tre settimane dovrei finirlo Ragazzi questa sera pizza in spiaggia E si sta svegli tutta la notte Netflix è cioccolato? Netflix è cioccolato Ah ieri sono stata tutta E invece c'era la tosse Ah ieri sono stata tutta il giorno in costume C'era un vento tremendo eh Però non mi sono pesa nessun raffreddore Ma perché? Non è possibile Ho tenuto la finestra aperta per 5 secondi Mi passi la tracchia Ciao Olive Io sono Erolora E questa è l'estate versus inverno Lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto Condividete il video dove volete E iscrivetevi al canale Io pubblico un nuovo video ogni lunedì E sabato alle 11 e mezza di mattina Per quest'estate eh E seguitemi su tutti quanti i miei social Olivieri, Olivoggi, Olisentre Ciao